www.messino.it www.messino.it Cosa vuoi fare con quelle scarpe? La troia! Domani ci trasferiamo a Scilla, agli zii. Tua madre non ti ha insegnato cosa fanno le ragazze. Tua madre ti ha insegnato solo che fanno le puttane. Cava oggi morire io. Se è caca che è voluto morire, allora sbragatevi. Papà? Il suo deniente, e niente succede. ... ...